si diciamo che è stata anche di cuore perché sono stato molto bene un po di anni fa e la trattativa è nata già quest'estate con il direttore che conoscevo molto bene e voleva portarmi qui poi dopo appunto ho fatto scelte diverse ma c'è stato subito un forte interesse e al di là l'aspetto tecnico tattico quello che poteva essere loro ma hanno avuto fortemente quindi è una scelta che ho preso con tutto me stesso sicuramente ho ritrovato il mister alcuni ex compagni che con cui ho giocato insieme già dal primo allenamento visto che il gruppo si vede che è forte la squadra ha ottime capacità sia tecniche tattiche anche tutto lo staff che c'è dietro ho ritrovato il bell'ambiente la serenità che appunto che c'è qui sono sono contento di essere tornato sì speriamo di fare molto meglio degli altri anni sono qui quando ero ragazzo e l'obiettivo è quello di fare di fare bene sicuramente di scattarmi dopo questa questa piccola parentesi spero di fare bene di mettermi a servizio della squadra già da subito sì l'anno scorso con il castelnuovo anche due anni fa con sempre con il castelnuovo noi sempre in una partita da ex ma comunque ho sempre avuto ottimi rapporti con i compagni quindi anche in mezzo al campo era una partita abbastanza tranquilla e quest'anno anche l'ho ritrovato anche in panchina allenatori che che avevo già avuto entrambi sia il mister amavolo che il mister ad eugenio quindi è una cosa in più infatti è una scelta che è stato un matrimonio che è stato fatto in due perché il pineto c'ha appunto questa voglia di continuare a far bene di rimanere lì davanti e che appunto si sposa bene con la mia filosofia e con il mio intento quindi sicuramente voglio dare un contributo forte alla causa e spero che sarà possibile ho parlato già con il mister per quanto riguarda aspetto tecnico poi stare a lui decidere come utilizzarmi e metto a disposizione in mezzo al campo poi in un modo o nell'altro la posizione si troverà